SP, acronimo di Smart Performance, è veramente una grossa spinta all'innovazione. È un progetto estremo, un nuovo modello di utilizzo, un nuovo modello di vita. Questo profilo di questa barca è nato quasi mettendo un pezzo di carta lucida sopra il profilo così austero, così perfetto del grande squalo bianco. Elegante, possente, assolutamente unico. Questa volta l'open space è verticale. Non è solamente all'interno di un unico spazio, ma lo abbiamo aperto anche verticalmente. Alzi gli occhi e il vuoto diventa il pieno. Ne percepisci la potenza architettonica. Direi spicolosa, ma allo stesso tempo anche fluida. Ha una poppa spaventosamente generosa, un soggiorno all'aperto. Da questa grande spiaggia di poppa noi abbiamo accesso, attraverso questo sistema di vetrate, a questa sorta di grande loft dove puoi scendere, puoi salire, con la sensazione di dire no, io non sono salito su un'imbarcazione veloce e performante, io sono all'interno di un houseboat. Performante è una parola che ingloba tutte le caratteristiche dello yacht stesso. Volumi, spazi, fruibilità dell'interno, dell'esterno, flessibilità del layout. Che spinge nella direzione dell'iperdinamismo, dell'aerodinamica, che ti dà la sensazione di poter in qualche modo, con quella prua, affrontare il male con maggiore sicurezza. Cercando materiali che non sono mai stati usati, molto belli, ma molto leggeri. Spinto da una nuova propulsione, parliamo di idrogetti, che permette un bassissimo pescaggio all'imbarcazione, un comfort e una flessibilità di utilizzo in navigazione incredibili. Nel pieno rispetto dell'ambiente ed è questo che caratterizza il progetto e la sua originalità. Ecco, questa nuova generazione, gli SP, sarà veramente una nuova generazione di barche. Un nuovo capitolo per consolidare ancora l'immagine del marchio San Lorenzo nel mondo. L'SP 110 è il primo Open della storia di San Lorenzo. L'SP 110 è il primo Open della storia di San Lorenzo. L'SP 110 è il primo Open della storia di San Lorenzo. L'SP 110 è il primo Open della storia di San Lorenzo. L'SP 110 è il primo Open della storia di San Lorenzo. L'SP 110 è il primo Open della storia di San Lorenzo.